Un occhio! Mi è venuta un'idea, nel mio faccio io la donna, nel tuo lo fai tu! Secondo me però due ragazze è più carino, Yuriko e Kumiko. Se questo video arriva a 3000 like, avremo la versione Kumiko e Yuriko Kimi no Nawa. Guardate che meraviglia questi Emma, veramente di qualità. Nel video di oggi, io e Mangaka96 riprodurremo questa scena di Kimi no Nawa grazie a Yuriko, quindi non perdetevi che a fine video mi metteremo la foto. Guardate, ecco qua. Sembra di essere dentro un anime. Questo sarà il video backstage di Kimi no Nawa. Mi è venuta un'idea, nel mio faccio io la donna, nel tuo lo fai tu o viceversa? Che così abbiamo la par condition, no? Avete capito? Quindi noi stiamo per provare a riprodurre questa immagine qua e quindi nella mia versione del video sarà così, nella sua saremo noi due opposti. e poi scriveteci nei commenti quella che preferite. Se vi fanno schifo tutti e due la rifarò con qualcun'altra. Grazie, come sei gentile. No, scherzo. No, scherzo, fra due mesi la vedo. Lui e Kumiko, già lo so. No, la faremo io e Sol Mafia. No, sto pensando chi la potrebbe fare. Secondo me però due ragazze è più carino. Tipo Yuriko e Kumiko. Oh, Yuriko e Kumiko. Se questo video arriva a 3.000 like, per me sono tanti, faremo la versione Kumiko e Yuriko. Kimi no Nawa. Se la volete scrivetemela nei commenti. Comunque lei è con noi, non è una giapponesa a caso che stiamo seguendo. Oh, sono queste! Le abbiamo trovate! C'è sempre una gran fila per fare la foto qua. Ci ho messo tipo 3 minuti. Eh, ma guarda che c'è gente che sta facendo la foto, eh. Cari, gli chiediamo se la possiamo fare assieme? Adesso, eh, ma non mi sembrano molto contenti. Ah, ma guarda che in realtà c'è veramente la fila. Eh, sono delle scale famose, quindi non poteva che esserci la fila. Però dobbiamo vedere l'originale per capire come fare. Esatto. Io sono super emozionato, ragazzi. Ah, ma qua la stanno facendo proprio professional. Noi dobbiamo rifare questa foto qui. Ho messo il vestito sbagliato. Io c'ho la maglietta di YourName, vale. Ah, c'è proprio la maglietta di YourName? Che ma è saicù. Se vuoi, t'ha dietro la giacca quella mia di Alive. Eh, ma veramente c'è un sacco di gente. Non pensavo, perché poi adesso è proprio anche l'ora del... Guarda che flare che c'è, guarda che flare. Eh sì, perché non pulisci la lente, è tutta sporcissima. Mi avevi detto, mi hai promesso come la pulivi, invece non me l'hai mai pulita. Vabbè, bene, allora adesso andiamo all'arrembaggio. C'è un sacco di gente, eh. Andiamo a vedere prima il templio? Andiamo prima a vedere questo. Non è un templio, ricordiamo che questo è un santuario, perché è scintoista. Come potete vedere dal Torii. E come vi ricordate nel video dell'altro giorno, bisogna passare ai lati e non in mezzo. A meno che non siete delle divinità. Come me. Eh sì. Mangami. Mangami. Andiamo a fare la foto adesso, che siamo emozionati. Devo dire che mi vergogno un po' a fare quella foto, perché non volevo che ci fossero gente. Sì. Eh, però... Allora, prendiamo un altro po'. Facciamo il giretto del tempo. Sì, perché vedete, io non è che lo conosco da tanto, mangaka 96, quindi fare così questa foto. Prima facciamo una passeggiatina. Ci si conosce un po'. Mazzo di rose, un invito a cena. Ah, io vorrei fare un video sugli ema. Gli ema sarebbe praticamente... Sono scritti col carattere di E, che vorrebbe dire illustrazione, e ma il cavallo, no? E praticamente sono queste, sono delle... Sono queste tavolette di legno in cui tu chiedi al Kamisamo, ossia, per farla semplice, di quello degli dei, il tuo onegai, quindi il tuo desiderio che vorresti che si realizza. Qua ce ne sono di bellissime, con tantissime illustrazioni, però non possiamo far vedere le scritte nel dettaglio, perché... Però si può far vedere l'immagine dietro, capito? Sì, guarda che bella questa. Guardate che meraviglia questi ema, veramente di qualità, bellissime. Adesso Seba e Mangaka vanno a fare la foto, perché... E adesso mai più. Si è messa anche la maglia apposita. Quanto l'hai pagata? Una regalata. Allora no. Una regalata. Qua ci sono un sacco di cose contraddittorie. Dovete vedere che c'è un po' di imbarazzo, sono un po' imbarazzato, perché sinceramente di fare questa foto con tutti non mi sembrava il caso, però la voglio fare ormai. Non c'è nessuno, questa è la cosa più divertente, sono tutti là che vogliono vedere noi che la facciamo, secondo me. Vabbè, allora io sono emozionatissimo, ho l'idea di fare questa foto, chi mi non ha osa? Sei contento che ti hai portato qui? Molto, molto, molto. Io la prima volta che vengo, ecco, la prima volta che faccio delle foto del genere, è stato veramente il mio shooting, io faccio modello da tanti anni, ma questo è stato uno degli shooting più difficili che abbia mai fatto, sì, era molto difficile. Era come, io sono complicato. E vabbè, e adesso facciamo anche la versione inversa, perché no? Diteci nei commenti qual è venuta meglio, eh? Mangaka sta scendendo le scalette, se volete vedere la versione di lui donna andate sul suo, un abbraccio da Seba, un abbraccio da Yuka e uno schiaffo morale da Mangaka96. Yuka che ci fa la foto. Un occhio! La nostra Yuka non si è vista al video degli Yuki 2, se non ve lo siete visti, Mangaka? Andatela a vedere subito. Ichimoku-san vuol dire darsela a gambe, mentre Ichimoku-ren nihon no sugoi ninkina yukai. Quindi andatevelo tutti a vedere. Guardate quanto è figo il video sul suo canale, però lui c'ha già tanti iscritti, basta. Guardate che figa, guardate che figa. Scusate se oggi non vi faccio vedere la bocca e i denti, però vi faccio vedere gli occhi, quindi dai, è comunque un bel video. Poi sapete i miei video sono garanzia di bei video. Miko come i suoi che ne fa di belli e di noiosissimi. Io ne faccio uno almeno, di una settimana ne faccio io. Una settimana solo? Sì, perché devo farli belli. Qualità. Ma anche io ne faccio di qualità e ne faccio anche... Uno al giorno. E vabbè ma io c'ho... Sì, è troppo potente. Qualità giornaliera. Mia potenza, sapete dove la esprimo di più? Sul canale Akatsu. Sul canale Akatsu. Adesso chiediamo a Yuka. Yuka, ti ho chiesto qual è la sua canzone preferita sua, mia? Yuka, mi chiede? Mmm. Ti la canto? Vai. Allora vedi che adesso fa finta di niente. Me la canti se te la dico ho detto e poi dopo non l'ho più detto niente. Quella che c'è a Kisashi che c'è tipo in sei video. Ai Bleed. Sopo, 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 sopo. Ah, l'ha detto a caso. Avalon! I can't hear the angels just be yours As the sky opens, you see hope will give And the pain you feel, we all disappear Feel the light within, as the darkness fades away Now that the road has ended, I stand alone Nothing to lose so far from home Just like a rising phoenix, awaked from its very ashes I will set my wings on fire I won't scream, no I won't break The others I can lie and wait Cause I believe the destiny will find its way back to me Falling on the steps of our own I can hear the angels just be your own As the sky opens, you see hope begin And the pain you feel, we all disappear Feel the light within, as the darkness fades away Every breath will lead you to peace Every breath will lead you to peace Everything will be forgiven And you will see Falling on the steps of our own Falling on the steps of our own Falling on the steps of our own As you push us toternetic Whoever likes this video Será can you like come? I am Sebastiano Serafini If you're hated, I am By The Gym How You Hope Flour Flower N undocumented Flowers It has become probably aiov ni Main Grazie per la visione!